Buongiorno da mattino 6 per questo sabato 25 Oggi si ricorda Sant'Adelmo, andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani Iniziamo dalle pagine del centro nelle cronache dedicate alla provincia di Pescara In apertura massaggi hard in villa, due arresti, Montesilvano, le confessioni dei clienti disposti a pagare fino a 150 euro A centropagina Zeman, le Iene portano bene il blitz degli inviati d'Italia 1, domani Pescara in campo contro il Chievo Nelle cronache il questore giro di vite contro le notti brave E ancora liceo da Vinci, una sede insieme al centro anziani Diffamazione il governatore contro Pettinari, Naula, Paolucci Di taglio basso sedute settimanali chiuse a gennaio, pazienti stremati senza le cure Psicoterapia bloccata, i malati in preda ad attacchi di panico E poi all'auditorium Petruzzi Pannella e il suo lascito politico, oggi a Pescara Di taglio alto l'inchiesta a palti pubblici, carabiniere sospettato di svelare le indagini E poi il terremoto e il maltempo d'Alfonso conta i danni, sfollati a quota 6.000 All'interno primarie del Partito Democratico c'è l'accordo, si vota il 30 aprile E poi l'intesa a Roma, la raggi dice di sì allo stadio ma senza le torri Napoli assenteismo in massa all'ospedale Le pagine del centro dedicate alle cronache della provincia di Chieti Usura e cocaina nessuno confessa Gli arrestati per Ndrangheta interrogati nel tribunale blindato A centropagina Antonella, dieci volte mamma, famiglia da record a Vasto A 41 anni è felice con tanti figli Di spalla, Vasto di Lello ai PM, ora ho capito che ho sbagliato A Chieti l'Ateneo blocca le parcelle d'oro a due avvocati Lanciano mille cinghiali da abbattere, si comincia oggi E poi a Chieti, Maccio e Ferilli, oggi la prima Al megalò serata di gala, invito per omicidio all'italiana Sulle pagine dedicate alla provincia di Teramo 6.000 sfollati e l'ufficio non apre Terremoto, il sindaco Brucchi accusa ricostruzione in ritardo E poi la frana sta ingoiando Casoli, lo smottamento che minaccia la frazione di Atri Non si ferma Nelle cronache, Giulianova Mastromauro, ospedale unico, il DG Asl Fagnano Si deve fermare Cermignano sale sul tetto del Capannone e cade, è grave Ancora su Giulianova niente scuola, nel centro commerciale L'opposizione attacca stop ai carri, polemica a Roseto Si farà soltanto il carnevale dei bambini al Palasport Le pagine dedicate alla provincia di L'Aquila Ricostruire con gli universitari L'Aquila Innovativa Accordo, Ance Ateneo Per i tiruccini nei cantieri E poi Bova, state attenti al web Corso del centro, attore intervistato dai giornalisti studenti Nelle cronache, il CAM Avezzano Tedeschi dice, io perseguitato, soldi illegittimi E poi Lolli, pronte 5 nuove aziende ITEC Assulmona scontro politico sullo scandalo dei bus fermi Il calcio alla serie D L'Aquila un'odissea di 17 ore Rosso-blu in Sardegna col traghetto Per evitare gli scioperi Vediamo i titoli di apertura del messaggero Nelle pagine dedicate all'Abruzzo Appalti, spunta alla talpa L'Aquila informazione a un imprenditore Trasferito a un carabiniere della procura Primi interrogatori Mauro Pellegrini e Giancarlo Di Vincenzo Estranei alle accuse Avvasto il delitto per vendetta Di Lello si pente Non avrei dovuto ucciderlo Sbagliato Non avrei dovuto farlo Fabio Di Lello Avvasto si pente dell'omicidio Di Italo Di Lisa Il centro massaggi tantrici Nascondeva un giro di squillo Montesilvano Il blitz nel salone Cinque ragazze nude Arrestati I gestori Parco d'Abruzzo Scongiurata la paralisi Ecco le nomine Della pietra presidente del collegio dei revisori Manca solo il nuovo direttore A Pescara Maschere alla carica Per il carnevale Poi di taglio alto In azione Farmacie senza prodotti Salvavita Scattano denunce In tutta la regione Roccaraso Raffaella Fico La bellezza Tra neve e champagne Lo sport Gli annascoli Prima mossa Per l'assalto Al Pescara L'ex amministratore delegato Intenzionato A rilevare La maggioranza Del club bianco-azzurro Ieri ha chiesto Ufficialmente La due diligence Le pagine della città Un varco Su cratere Zona Franca Ad Alfonso Ottimista Dopo l'incontro con Gentiloni Ma la protesta a Roma Continua a incassare adesioni Centropagina Teramo Fondi incerti Per la casa dello studente Arrettorato Il progetto ha zoppato Il rettore d'amico Dice di mettermi mai Altri guai in Ateneo Dopo le dimissioni Della direttrice Orfeo Di spalla Giulianova Il Tarra Accoglie il ricorso Contro il chiosco Rosetto degli Abruzzi Le strisce blu A rischio contenzioso E poi Civitella del Tronto 20 milioni Per la frana Di Ponzano La ristorazione Riaprono Gli spazi dorici Del Duomo Teramo Calcio Ugolotti in trasferta Dice Andremo Appado Va a fare la nostra partita Di taglio alto Isola Fatolan Plain Musp E Polo Scolastico Lunedì la visita Del Ministro Fedeli A Teramo Maestra muore di infarto A 46 anni Ancora su Teramo Un altro crollo Al Regina Margherita Andiamo ora A sfogliare Le pagine Del centro In apertura Il terremoto E il maltempo Il nuovo Cratere Frane strade Così cambia La conta dei danni Entra in vigore L'ordinanza Che da 90 giorni Di tempo Al commissario delegato Per chiudere il cerchio D'Alfonso a sindaci Cittadini e associazioni Dice Collaborate Siate precisi Già inseriti 873 interventi E poi Il dramma degli sfollati Teramo 6.000 Senza casa Per i danni delle scosse I giorni terribili Della provincia Il culmine a gennaio Con maltempo E blackout E adesso L'incubo frane Che ha già causato Lo sgombero Di 400 cittadini E proprio ieri Il governatore Della regione D'Alfonso Ha in conferenza stampa Ha riferito Di quello che era stato L'incontro Con il premier Gentiloni Proprio per le richieste Dell'ampliamento Del cratere Soprattutto Dell'arrivo Di nuovi fondi Vediamo Nuovi fondi Per l'Abruzzo Per far fronte All'emergenza Della forte ondata Di maltempo Dello scorso gennaio E ampliamento Del cratere sismico A causa Delle frane Che stanno ancora Interessando Alcune zone Della nostra regione Oltre alle scosse Di terremoto Degli scorsi mesi Questi risultati Ottenuti dal presidente Della giunta regionale Luciano D'Alfonso Dopo l'incontro Avuto ieri a Roma Con il premier Paolo Gentiloni Tutto questo Grazie all'adozione Di una norma Ad hoc Per l'Abruzzo Un'ordinanza Ad hoc Che da 90 giorni Per la quantificazione Dei danni E anche per la loro Qualificazione Un'ordinanza Che prende a bersaglio I problemi Che si sono verificati In ordine Al patrimonio pubblico Al patrimonio privato E anche alle attività Economiche e commerciali Accanto all'ordinanza Ho riferito oggi Anche dei colloqui Col presidente Gentiloni E del fatto Che ho rappresentato Con adeguatezza La necessità Dell'evoluzione Del cratere sismico Per fare in modo Che si ricomprendano Anche i nuovi problemi Intervenuti Dopo il 18 di gennaio Ho posto il problema Dei danni indiretti E ho trovato Disponibilità Non solo ad esaminare Io ho posto il problema Per quanto riguarda Un piano dedicato Circa la viabilità Minore in Abruzzo E ho trovato Non solo interesse Ma adesione E poi ho posto Un problema Per quanto riguarda Un piano dedicato Per l'aiuto Al settore agricolo E poi ancora Una questione Riguardante Le piccolissime imprese Del commercio E del turismo Nei piccoli comuni Di questa parte Di Appennino Che concerne L'Abruzzo E poi abbiamo già Incassato ieri sera Il consenso Per avere 35 unità in più In aiuto Dei comuni Che sono stati Danneggiati Ci saranno Due unità in più Per ogni comune Due unità Per la provincia Di Teramo Una per la provincia Di Pescara Ed una per la provincia Dell'Aquila L'evoluzione Del cratere Riguarderà L'Alto Aterno Questo è quello Che io ho chiesto E sul quale Ho avuto anche Una forte attenzione Riguarderà naturalmente La montagna E la collina Teramana E riguarderà anche Ciò che più È stato danneggiato Della provincia Di Pescara Torniamo sulle pagine Del centro Per parlare ancora Dei danni Del terremoto Le prime casette A Torricella E Colledara Incontro con la Postiglione Il numero 2 Della protezione civile Entro settembre Tutte le strutture E poi La provincia Di Pescara Penne 30 famigli Fuori dalle abitazioni E ancora Da Amatrice a Campotosto L'Aquila Ospita un migliaio Di persone Il terremoto E le frani Gli edifici più sicuri Ecco come costruirli De Paulis Dice è importante La scelta Del luogo E anche del materiale Quella sola abitazione Rimasta da Vezana Resistita Alla scossa Del 13 gennaio 1915 Realizzata Dal cementista armato Cesare Palazzi Ancora L'Aquila Il diario Di un rientro 8 anni Nel progetto Case Ma ora Torniamo in centro I tecnici Del nostro Consorzio Di aggregati Ci hanno dato La buona notizia Presto rientreremo Nelle abitazioni Da dove Siamo fuggiti La notte del 6 aprile 2009 I lavori Ultimati Quasi a tempo Di record Addirittura Tre mesi Prima della riconsegna Prevista Dal contratto Di appalto Siamo usciti Euforici Dall'assemblea Del 21 febbraio Dopo le relazioni Degli ingegneri E del rappresentante Dell'impresa Edilfrair Che ci hanno aggiornato Sullo stato Del cantiere Finito l'esilio Anche per amici Vicini di casa Che erano stati Costretti A emigrare Sulla costo Avezzana Rientriamo in casa Certamente Più sicure di prima E poi La politica nazionale I conflitti democratici Le primarie Il 30 aprile La sfida alle urne Data approvata Dalle direzioni Dopo un lungo braccio Di ferro Fassino dice Chiuso il dibattito Su elezioni politiche A giugno Emiliano e Orlando Contro Renzi Per la guida del partito Il ministro propone No al cumulo delle cariche Il segretario Non può più essere Anche candidato premier Oggi a Roma Speranza Rossi e Scotto Lanciano il nuovo Movimento di sinistra Le prove di accordo Il referendum Della CGL Sui voucher E il sostegno Al governo Gentiloni Ancora raggi Il malore E poi il sì C'è l'accordo Sullo stadio Stress per il sindaco Che finisce in ospedale In serata Il ritorno In Campidoglio L'intesa Con la Roma Cubature dimezzate A Tordivalle E poi Un lungo sit-in Dei tifosi Giacchetti è polemico E dice Mi denunci No pure Insieme al resto Dei sostenitori Giallo-rossi Per le proteste E rinuncio All'immunità Parlamentare Ancora Sul partito Democratico Chi resta E chi va Il quadro è fluido Pochi per ore I riflessi Della scissione Sulla politica Locale Ma qualche big È uscito Andiamo avanti Gentiloni Va a Norcia Sei mesi dal sisma Stringiamo i tempi Monito del Premier Le istituzioni Si mostrino all'altezza Errani dice Una situazione complessa Ma la stiamo affrontando Di taglio alto Le armi atomiche Gelo Tra Stati Uniti E Russia Guai Ad alterare L'equilibrio atomico Il rischio È una nuova guerra fredda Dalle conseguenze catastrofiche Il monito Lanciato ieri Da Donald Trump Gli Stati Uniti Non rinunciano Alla supremazia atomica Gela la Russia Che avverte Il dominio Di una sola potenza Negli armamenti nucleari È inammissibile E poi l'omicidio Cucchi Lo stop Ai carabinieri accusati Tre carabinieri Per cui la procura di Roma Ha chiesto il processo Per l'omicidio Di Stefano Cucchi Sono stati sospesi Dal servizio Nessuna sanzione Invece Per i due accusati Di calunnia Uno anche di falso Per averli coperti La sorella di Stefano Ilaria Ha commentato ora Non potranno Più nascondersi Dietro una divisa Che non meritano Di indossare Lo scontro Sulla sanità Servono biologi Non obiettori Rovigo La polemica Sul bando Del centro Di procreazione assistita La ASL Dice necessari Per il nostro servizio E poi a Napoli Il blitz In corsia L'assenteismo di massa All'ospedale Loreto Coinvolti Dottori E infermieri 55 sono gli arrestati 94 gli indagati Chi andava al tennis O in clinica E chi faceva Lo chef In hotel La pagina dedicata All'Abruzzo La politica E le inchieste A palti pubblici Spunta anche La talpa Scoperto e rimosso Un carabiniere Accusato di spifferare Informazioni Sulle indagini Insieme a lui Altri due sospettati I primi interrogatori Per i lavori A Palazzo Centi Di Vincenzo Rigetta le accuse E dopo due ore L'audizione è sospesa Riprenderà Lunedì prossimo Nei prossimi giorni Dovrebbero comparire Davanti agli investigatori Altre persone Finite nella copiosa Documentazione In mano Alla procura Di L'Aquila Di spalla Controlli del NAS Farmacie Senza medicinali Salvavita Multe e denunce E poi Poi a Pescara Le notti violente Sprai urticanti E blitz nei locali Il questore dice Basta alcol ai minori Misiti annuncia Controlli a tappeto Nelle zone della Movida E servizi notturni Rafforzati Ma precisa Gli ultimi episodi A Pescara Vecchia Sono un'eccezione E poi Parla anche Dell'attentato Al presidente del Pescara Sebastiani All'origine Della fuga Non ci sarebbero Solo dissapori Si parla invece Qui del caso Dei vigili urbani A Pescara Altri tre Lasciano La divisa L'esodo Dei vigili in comune Perde pezzi Il comando Della Polizia Municipale Che oltre al cambio Di mansioni Deve fare i conti Anche con sei Pensionamenti Previsti Entro quest'anno All'origine Non ci sarebbero Aldomoro Per far posta 80 mila E 80 mila euro Terapia I malati Udienza Nella causa Arrestati 21 anni L'italista E poi Incidente sul lavoro Tra totale Alla stampa La casa bianca La casa bianca caccia La caccia E il New York Times Il messaggero Il messaggero Raggi cede Prima o sì A trionfo La sindaca Vince la partita Metà cubature Soddisfatti Tifosi E base grillina E ora La Lazio Spera Unico Sconfessato Beppe Che giurava Mai A Tordivalle Affonda Renzi Si rassegna Dio Urne a giugno Il 30 aprile Le primarie PD Non si vota più Corriere della sera Raggi Sì allo stadio Di mezzato Primarie PD Il 30 aprile Fassino esclude Il voto a giugno Mattarella Dice stabilità I casi La sindaca Rinvia Per un malore Poi chiude L'accordo Per la Roma Il nodo Delle autorizzazioni E poi Trump E i media Alcune testate Fuori dal briefing Porta chiusa New York Times E CNN Il fatto quotidiano Tutto in famiglia Le carte Del caso Consip I pizzi di Romeo Soldi a paparenzi E incontro con L Per i PM Era Lotti Per gli inquirenti Di Carlo Russo Si arrivò Per l'abboccamento La procura Sentirà presto Michele Emiliano Come test Sul blitz di Tiziano Nel suo sodale In Puglia Amatrice L'impresario Che deve ricostruire Indagato per i crolli Il terremoto Disastro colposo Omicidio colposo E truffa I primi 15 Tra cui il vescovo Nel Mirino Primari Primari E dem PD Dietro Orlando C'è Napolitano Il gazebo Il 30 aprile Il taglio Vitalizi Le risposte Degli onorevoli All'idea Del fatto L'avvenire Titola Le guerre Dell'acqua Da spegnere subito All'arme del Papa Un diritto Che a tanti È negato La politica Le primarie Tardi Il PD Sposta In là Le elezioni Il gazzettino Da Napoli A Gorizia L'Italia dei furbi L'inchiesta In Campania Coinvolti Dottori Infermieri Tecnici C'era chi giocava Tennis E chi faceva Lo chef Assenteisti In ospedale 55 arresti In Frioli Venezia Giulia Due medici Marito e moglie Timbravano E uscivano E poi Arrovigo La bufera Sul biologo Non obiettore Il manifesto Titola La testata calda Stati Uniti Si parla di Trump E poi Il mattino Titola L'ospedale Degli assenteisti Loreto Mare 55 arresti Un medico A giocare a tennis Altri in clinica Migliaia di assenze Durante l'orario di lavoro 94 sono gli indagati Addetti al centro controlli Timbravano Per tutti Calenda Una legge Antiscalate estere Ma non sarà A favore di Mediaset Bollore indagato E poi Le mosse Del governo Le pagine Del secolo XIX 5 stelle Apre la guerra Dei vitalizi Il PD Fissa le primarie Al 30 aprile Oggi Orlando A Genova Una mossa Anti Renzi Roma dice sì Allo stadio Ma senza le torri L'arena Titola Verona Il voto Tutto da rifare I nodi Palazzo Barbieri Nel PD Trevisi Si sfila Si sfila Momento di riflessione Per ferro Il centrodestra Un duello a Roma Le primarie Democratiche Il 30 aprile Così niente elezioni A giugno L'unità Congresso PD Primari Il 30 aprile Assemblee di sezione Entro il 2 aprile Tramonta l'ipotesi Di elezioni politiche A giugno Orlando Agli scissionisti Dice Non andate via Martina Fassino E Bonaccini Restano Correnzi Andiamo a sfogliare Le pagine Del messaggero Anzi Iniziamo ad aprire Le pagine Del quotidiano La città Si continua A parlare Della situazione Dei danni Dell'Abruzzo Dovuti Al cratere sismico E soprattutto Al terremoto E al maltempo D'Alfonso Apre un varco Su cratere Zona Franca E reso conto Dell'incontro Con il premier Gentiloni Buone notizie Per il riconoscimento Dei danni Indiretti L'evoluzione Del cratere sismico Riguarderà L'Alto Aterno La montagna E la collina Teramana E ciò Che più è stato Danneggiato Della provincia Di Pescara Sapendo che è anche Compito mio Evitare che si arrivi Fino a Zagabria Di taglio basso L'inchiesta Gli appalti in regione E indagato anche Un carabiniere Avrebbe rivelato A un imprenditore A un ex collega Di essere finiti Sotto inchiesta Iniziati già Gli interrogatori Casa dello studente Progetto azzoppato Per affossare D'amico Così com'è il contratto Di cessione Tra Ateneo e Adsu Impedisce l'accesso Ai 9 milioni di euro Necessari a trasformare L'ex rettorato Manca la stima Del valore Dell'immobile Del rettorato Avrebbe dovuto produrla L'ufficio tecnico D'Ateneo Invece Nella delibera Di contratto Si rimanda Ad una perizia Mai arrivata Di taglio basso La nomina Ciro Benedettini È direttore Dell'Eco Di San Gabriele Il microfono Di Tre Papi Torna al santuario Di Isola del Gran Sasso Dopo la scomparsa E poi l'intervista Al rettore D'amico Dice dimissioni Mai risponde Il rettore Interpellato Sulle voci Che si rincorrono In queste ore Sulle sue possibili dimissioni Ieri ha detto Forte e chiaro La sua Non ci penso proprio Non c'è alcun fondamento Mi sono dimesso Dalla tua Proprio per mantenere Il rettorato Incompatibilità A parte E nell'intervista Si chiede Al magnifico rettore Come si spiega La circostanza Di questa chiacchiera Messa in giro Chi gioca sporco E soprattutto In quali ambienti A rispondere D'amico Che dice Sono i soliti boatos Che periodicamente Escono dagli ambienti Più chiusi Al rinnovamento Di questa università E' chiaro Che c'è qualche tentativo Di mettere I piedi di traverso Ma una delle caratteristiche Del mio mandato E' proprio quella Di fare squadra con tutti Le voci di discredito Non minano in alcun modo Il forte appoggio Che c'è Nei miei riguardi All'interno dell'università E' chiaro Che ci sia un po' Di amarezza Ma mi conforta L'intesa perfetta Che ho con il resto Della squadra E poi una domanda Anche sulle dimissioni Dalla società di gestione Unica tua Con il senno di poi Viene chiesto a D'amico Dopo le circostanze Che l'hanno costretta A dimettersi dalla tua Mangerebbe la faccia Del presidente D'Alfonso Per una sovraesposizione Che forse Ha indebolito La sua immagine D'amico dice Assolutamente no Al presidente D'Alfonso Sono grato Per l'opportunità Che mi ha dato Di portare avanti Le azioni di risanamento Che mi sembrano Cosa obiettiva Sia per l'azienda tua Che per l'Ateneo Piuttosto mangerei la faccia Chi specula Sul mio impegno E poi l'ufficio terremoto Cianciotta Presente il suo piano Per la ricostruzione Stamattina All'hotel Sporting L'incontro Con la stampa Per illustrare Le sue linee Sempre a te Era un insegnante Di Villa Ripa Muore a 46 anni Luigia Di Lorenzo Stroncata da un infarto Durante la notte Oggi si svolgeranno I funerali Alla Madonna Della Cona Era un insegnante Molto apprezzata La scuola di Villa Vomano Lascia il marito Anche lui Docente al di Poppa E anche una bambina Crollato Un altro pezzo Del Regina Margherita Nella notte Ha ceduto Un altro punto Del tetto In corrispondenza Della fermata Del bus Di Viale Mazzini E poi di taglio basso I quartieri Mugugni Contro il divieto Ai mezzi pesanti Il consigliere Corona Raccoglie le critiche Su via di Vittorio San Nicolò Non vuole Saperne Del polo Albonolis Il comitato Dei genitori Teme lo spopolamento Della frazione Ma a due Delle scuole Comunali Meno sicure La richiesta I genitori Chiedono un incontro Al sindaco Brucchi Per adeguare Le scuole esistenti Ai criteri Antisismici Più aggiornati Di spalla La Corte dei Conti L'ex direttore Del caporale È stato condannato Per 100.000 euro E poi per le scuole superiori Oggi Open Day All'istituto Pascal Comiforti Alla Cona Andiamo avanti Sempre sulle pagine Della città Si parla Di provincia Si parla ancora Di Frane Di Ponzano Servono 20 milioni Un nuovo allarme Per lo smottamento Di casoli di atri Oggi la visita Nel teramano Di Fabrizio Curcio Il rischio Per il governatore D'Alfonso a Ponzano Bisogna intervenire subito E nel modo giusto Altrimenti Può nascere Una nuova Rigopiano E allora Come detto Continua la frana A Ponzano Di Civitella Del Tronto Grande la preoccupazione Sfollate tantissime Abitazioni E tanti cittadini Fuori dalle proprie Abitazioni Facciamo un resoconto In questo servizio Ancora Ancora crolli Durante la notte A Ponzano Di Civitella Del Tronto La frana Di 40 ettari Di collina Non si arresta E tecnicamente Non si riesce A trovare una soluzione Per fermare Questa distruzione Inesorabile Ad oggi Sono 33 Le abitazioni Sgomberate E 125 Le persone Fuori casa Con la prospettiva Di non rientrare più Il sindaco Cristina Di Pietro Sta incontrando I responsabili Della protezione Civile nazionale Per tentare di salvare Ciò che resta Dell'abitato Più in alto Di Ponzano Le immagini Shock di questa Frazione di Civitella Del Tronto Che scivola a valle Stanno facendo Il giro del mondo Lo strazio Degli abitanti Costretti a lasciare Ogni cosa E ad evacuare In poche ore E una stretta Al cuore Per tutti Ora c'è bisogno Di fondi immediati Grida da giorni Il sindaco Di Pietro Lo Stato Deve intervenire Non possiamo permettere Che un intero paese Venga inghiottito Da una frana E noi immobili A guardare Intanto il movimento Franoso a Ponzano È in rapida evoluzione Gli esperti Ritengono opportuno Aspettare Ancora sulle pagine Della città Ministro fedeli A isola per Musp Polo scolastico Lunedì mattina La visita ufficiale I moduli Arrivano a fine marzo La nuova scuola Pronta Entro il mese Di ottobre E poi le parole Di Minosse Allontanano la minoranza Aria di crisi Nel PD albese Dopo l'intervento Del segretario provinciale La minoranza dice Continueremo A muoverci Assieme a coloro Che condividono Le nostre idee politiche Andiamo a Sant'Egidio Le scuole Rando Angelini Vara L'operazioni Trasparenza Pubblicati sul sito Del comune I risultati Delle valutazioni Sismiche Sui plessi E poi il TAR Accoglie Il ricorso Contro il chiosco La struttura Non è amovibile Il Movimento 5 Stelle Chiede le dimissioni Del progettista Assessore Guerrucci Il motivo Le fondamenta Una lastra di cemento Di 30 cm Non possono essere Rimosse Facilmente E poi a Giulianova Il comune Lascia invariate Imu Tasi Tosap E anche Irpef E per l'ospedale Unico Ma il sindaco Mastro Mauro Torna a chiedere La testa di Fagnano Per il sindaco Il manager dell'Asda Si comporta come un uomo Solo Al comando Dei mutui Neanche un euro Per le scuole Fratelli d'Italia Contro il sindaco Siamo a Roseto Agli annunci Non sono seguiti I fatti Cronaca Sempre a Roseto Degli Abruzzi Furgone in fiamme L'A14 Chiusa per un'ora e mezza Distrutto un mezzo Che trasportava pneumatici Contenitori d'olio E pezzi di ricambio Ancora su Roseto Il botta è risposta Sulla sfilata Di carnevale annullata Urbini Attacca l'amministrazione L'assessore Dice scelta dovuta A terremoto E anche al maltempo L'economia E il manifatturiero Torniamo ad industriarci Il piano Industria 4.0 Voluto da Confindustria E promosso dal governo Offre nove Soluzioni innovative Per la deflazione Il nuovo anno è iniziato Con una brutta notizia Arrivata dall'Istat Con i dati del 2016 Dopo 50 anni L'Italia è tornata Nella pericolosa situazione Della diminuzione generale Dei prezzi Senza però aumento Della capacità di spesa Da parte degli italiani E poi la cultura Non diamo la vinta All'ospite inquietante La filosofia E la società Umberto Galimberti A Teramo Per parlare Di giovani E nichilismo L'altro On the road Di coltrinari E onesti C'era una volta In Portogallo Quattro anni di viaggi Il ciclismo E poi anche Un libro Cacciatore scommette Sullo storico Duomo Il ristorante Di mare La perla nera Trasferito Nei locali Di via Stazio Il cuore Della gastronomia Cittadina Lo sport La Lega Pro Andremo a Padova Per fare la nostra partita Ugolotti Alla prima trasferta Sulla panchina Del Teramo Dice Per me non fa nessuna differenza Spero anche Per i ragazzi Strada ancora lunga L'allenatore bianco-rosso Tiene i piedi Saldi a terra Dice Non abbiamo ancora fatto nulla Spighi Sarà out Anche per questa partita Davanti Probabile conferma Per Barbuti E Sansovini E poi la conferma Del modulo Potrebbe essere Di nuovo proposto Il sistema di mercoledì Scipioni per Imparato E Ilari per Baccolo E allora proprio A parlare ieri Il tecnico del Teramo Golotti Lo ascoltiamo Noi sappiamo Che non abbiamo fatto niente Perciò Ripartiamo dalla prossima Da alcune certezze Perché tornare a vedere Alcune cose positive Le abbiamo fatte Però Con i piedi ben saldi Per terra Perché sappiamo Che abbiamo adesso Un'altra partita Difficilissima Contra una squadra Costruita per E sta lì E di conseguenza Sarà una partita Molto ma molto difficile Ma io sono abbastanza tranquillo Perché ho visto i ragazzi Motivati E andiamo a giocarci La nostra partita Ma indubbiamente I cinque difensori Ci danno Ma penso che se In qualsiasi squadra Danno un assetto E una copertura In questo momento Avevamo bisogno Come ho detto Un pochettino Più di tranquillità Nel senso che già Rischiare molto di meno Significa In questo momento Affrontare le partite Con uno spirito diverso Vediamo Vediamo L'altro giorno È andata bene Adesso abbiamo un avversario Che gioca in maniera Completamente diversa Perché affronteremo Una squadra che gioca Con i tre difensori Un po' Come abbiamo giocato noi La partita con il Pordenone In conseguenza Dovremmo prendere Le contromisure Quel sorriso Che speravi di vedere Dopo mercoledì L'hai visto? No Vabbè Che c'entra il sorriso È una serenità Che deve Che fa parte Un pochettino Del lavoro Perché Alla fine Sono dei professionisti Che lavorano E che non avevano ottenuto Quello per cui avevano sudato Perché non è che Prima non avevano sudato Assolutamente In conseguenza Sono contento per loro Sì Ho visto le facce Più convinte Decise Contente Perché Perché torno a ripetere È una dimostrazione Che ci possono stare Le delusioni che avevano avuto Pesano Di conseguenza È normale Che affrontare un allenamento Un dopo partita Con una vittoria È sempre una cosa positiva Ma no Sansovini è una questione Precazionale Sansovini ha Ai suoi annetti Ha giocato Una partita dietro l'altra Mi serve E di conseguenza Non ha importanza Che quando si allena Deve allenarsi Vale per lui Ma valgono anche per tutti gli altri Cioè Se uno viene a fare allenamento E non può fare determinate cose È meglio che non le faccia Gli diamo un giorno di riposo in più E poi quando domani mattina Verrà in campo Sarà sicuramente meglio Torniamo sulle pagine Frane Ci sono 873 interventi Urgenti individuati Prato e alberi La riviera rifiorisce Entro maggio sarà completato Il restyling del lungomare Dalla Madonnina via Cavour Ci sarà l'irrigazione automatica Cura drastica per il verde In vista della stagione balneare Lavori di potatura e ripiantumazione In corso in tutta Pescara A parlare è l'assessore al verde pubblico Laura Di Pietro Che dice In campo la Task Force Con comune forestali Massima attenzione Alle segnalazioni Dopo il contestato taglio Dei pini malati Parte il progetto Per ridare smalto Al patrimonio vegetale Della città E poi il blitz Niente Salva vita Le farmacie denunciate Una raffica di segnalazioni Dopo i controlli del NAS Le medicine obbligatorie Per leggi introvabili Pure nei depositi Un caso di esercizio abusivo Di taglio basso L'euro che cambia Banchi Italia Negli iper per lanciare La nuova banconota da 50 Il tour di presentazioni Comincerà il 4 marzo A Megalò Un infopoint Anche in filiale Maschere e feste Da Piazza Salotto A Villa del Fuoco Animazioni Spettacoli Momenti di svago Iniziative benefiche In tutta la provincia Si prepara la Kermess Più amata dai bambini E poi sulle pagine del messaggero Anche una mappa Di tutti gli appuntamenti L'inchiesta Il boss Cuppa Risolo rapporti di lavoro Il Tonino Ballone È il primo elemento locale Interrogato dal GIP Dopo il blitz Contro il clan Dell'Andrangheta Di taglio basso Doppia carambola Paura Ma per fortuna Nessun ferito Incidenti E poi Delitto rigante Per Ciarelli La condanna è stata ridotta A 17 anni Ancora cronaca Giro di prostitute Nel centro massaggi Dietro all'appartenenza Di trattamenti orientali Operavano 5 luciole Tutte italiane Sono stati arrestati A Montesilvano I due gestori Del salone Anima Un uomo e una donna Originari di Agnone E poi Una crisi aperta A Montesilvano Si dimette L'assessore Paolo Cigli E la spallata Dei ribelli Al sindaco Maragno Con il bilancio Alle porte Il sindaco Di Montesilvano Affronta un rimpasto Al buio Un premio Per la postina Di Farindola Lettere nella bufera Anche una doverosa Menzione speciale Per Daniela Di Marco Da 5 anni Porta lettera A Farindola Nel meeting Di posti italiane Riservato alla struttura Di recapito Dell'Italia centrale Svolta Nei giorni scorsi A Roma Attraverso Un filmato Daniele ha raccontato Il suo lavoro Durante i critici Giorni di gennaio Nei quali È riuscita a consegnare La posta Nonostante le impervie Condizioni ambientali Con cumuli di neve Lungo le strade E la visibilità ridotta Che precludevano La viabilità Andiamo avanti L'Aquila Cotugno L'appello degli studenti Siamo in condizioni disumane Documento firmato Da oltre mille ragazzi Non abbiamo il tempo Per assimilare Ma l'umore dopo Lo spostamento a Liti Se dicono Diciamo basta Con le lezioni Pomeridiane I rappresentanti Del liceo classico Dicono Vogliamo verifiche Celeri Sulla sede E una soluzione Alternativa E poi Un nuovo scontro Sulla statale 17 Quattro feriti Il traffico Va in tilt Un forgone Ha invaso La corsia opposta Centrando un'auto Nessuna grave Conseguenza Di spalla Nuove eleve Gli ingegneri del futuro Si formano in cantiere E c'è un accordo Tra ANCI Università Borse di studio Finanziate Dalla fondazione Carispac Duomo Nuovi danni Un pilastro Fa temere Le scosse di gennaio Ha aggravato ulteriormente Le già precarie condizioni Di staticità Della chiesa Segretario Cinema Cala il sipario Su LGBT Festival E lunedì Arriva a Pelù Con il suo corto Di taglio basso Lo scandaloso Abbandono Dell'antico Torrione Andiamo sulle cronache Di Avezzano Un treno Bloccato sui binari Ferrovia Va in tilt La paralisi Arriva per sette ore Il solito ferro vecchio Dell'ottocento Rimorchiato nel Lazio Ha provocato ritardi Sulla linea Promesse della regione Regionali In evase Pendolari Rassegnati Una tratta Sulla quale Non si può contare E da pescare I collegamenti Si limitano Alla tarda mattinata Una debacle E poi ancora Su Avezzano Panica al pronto soccorso Per un giovane Che ferisce Infermiere A Prato La taglio del nastro Del centro per l'autismo C'è stata L'inaugurazione E poi le vacanze VIP Per la Fico Neve Champagne A Roccaraso A Tagliacozzo Un'anziana parente Resta senza Ricovero Andiamo sulle cronache Di Chieti Tennis e calcio a 5 Il comune D'Ainappalto Piana vincolato L'affidamento Durerà 10 anni Il canon minimo È di 1200 euro Per l'ex Campo di basket San Martino Si va all'avviso Per la riqualificazione Un nuovo bando Dopo Sant'Anna E il Celdit L'assessore Viola Ha dichiarato La gestione Va alle associazioni Di taglio basso Intitolato Un largo Il ricordo Dei martiri Delle foibe E poi il galà Solidarietà Al Circo L'Amici Per aiutare Il San Camillo La tragedia Di Vasto Ho sbagliato Non dovevo ucciderlo L'assassino Di Delisa In lacrime Nell'interrogatorio In carcere Fabio Di Lello Ha ammesso Sono stato io A premere il grilletto La procura Pronta a chiedere Il giudizio immediato Per il killer La difesa Punta a smontare L'ipotesi Della premeditazione Gli avvocati Cerella E Andreoni Si battono Per la semi Infermità mentale Sconvolto Non dormiva più E assumeva farmaci Come testimonianto Anche dalla mamma E poi A caso Li videoarda La minore Processate L'autista La PM Vecchi Chiude l'inchiesta Il 63enne Subito davanti al GIP Inviava e chiedeva Filmati A luci rosse A termo I negozianti Dicono anche noi Saremo a Roma Il centro muore Le attività chiudono Ci faremo sentire Il 2 marzo Serrata Per raggiungere In massa La capitale Prevista una sfilata Rumorosa Con pentole Cucchiai di legno Abbiamo chiesto Alle nostre donne Di cucinare in piazza La mobilitazione Dei sindaci Per accendere I fari della politica Sui danni provocati Dalle calamità Si estende Anche ai commercianti E poi Il disastro Le frane Oggi La visita Di Fabrizio Curcio Solo per Ponzano Servono 20 milioni Lunedì Il ministro Fedeli Esaminerà La situazione Delle scuole A isola Del Gran Sasso Corte dei conti Arnoldo Dovrà risarcire Lo zoo profilattico L'ex direttore Condannato A versare 100.000 euro Per prestazioni Non pagate A Giulia A Giulia Nova Addio A Grattacielo Ed ex Zuccherificio Prevista La sala Teatro Mare Blu Presentato Il protocollo Di variante Sadam Nel nuovo edificio Troverà posto La farmacia Comunale Il progetto originario Prevedeva un palazzo Alto 50 metri Ora viene esclusa La parte riservata Congressi E convegni Di spalla Asl Fagnano Si converte All'ospedale Della Costa E poi Una mozione Contro il caro Bolletta Via la cauzione Per l'uso dell'acqua Roseto L'atto della Ciancaione Impegna il municipio Come socio Della Ruzzoreti Sollecitata anche La riduzione Delle tariffe Per le fasce Più deboli Dell'utenza Apriamo la pagina Dello sport Ecco la rivoluzione Di Zeman Lavoro Ironia E verticalizzazioni Così il Boemo Si è preso il Pescara Insegue una salvezza Che sarebbe clamorosa Intanto Si lavora già Per ripartire Eventualmente Dalla B Torna a Nicastro E dalla Samba In attacco Può arrivare anche Mancuso Non solo gradoni Ma lavoro tattico E psicologico Per il Boemo Che a Verona Raggiunge le 999 panchine E poi la curiosità Appoggio degli Olivi Arrivano anche Le Iene Come si vede In questa immagine Di Spallar La due diligence E ufficiale La richiesta Di Danilo Iannascoli E poi Vediamo anche La Lega Pro Teramo a Padova Si riparte Dalla difesa A tre Ci spostiamo Sulle pagine Del centro Qui apriamo La pagina Dello sport Domani Il Chievo Per il Pescara Le Iene Arrivano All'assalto Di Zeman E intanto Iannascoli Avvia l'iter Per rilevare Le quote di Sebastiani Due inviati Del famoso programma D'Italia 1 Irrompono Al centro sportivo Sorrisi E battute Con il Boemo Domani A Verona Il tecnico Schiererà Lo stesso 11 Che ha battuto Il Genoa L'ex AD Del Delfino Iannascoli Ha dichiarato Pronto Alla scalata Io ci sono Possiamo iniziare Subito La replica Del presidente Sebastiani Deve chiedermi Quanto voglio Per il 70% Poi forse Partirà La trattativa E poi L'attaccante Di Vasto Inglese Ma una gara Non basta per giudicare Il bomber del Chievo Cresciuto Nelle giovanili Biancazzurre Fu decisiva L'andata Resto legato Al Pescara Ma vogliamo Chiudere al più presto Il discorso salvezza Contro il Genoa C'è stata Una grande reazione Attenti a Caprari L'ho visto all'opera Nello stage Con la Nazionale E' impressionante E allora Come detto Il match Sarà contro Il Chievo Ieri una doppia seduta Di allenamento E poi anche L'incursione Delle Iene Vediamo Zdenek Zeman Potrebbe far ricorso Al vecchio adagio calcistico Squadra che vince E non si tocca In effetti Il tecnico Boemo Dalle indicazioni Che si desumano Dalle ultime sedute Di allenamento Sembra intenzionato A confermare La squadra che ha sconfitto Nettamente il Genoa Domenica scorsa L'Adriatico Cornacchia In quella che è stata La prima vittoria Sul campo In campionato Del Delfino Oggi Biancazzurri Hanno sostenuto La seconda doppia seduta Settimanale Dopo quella di Mercoledì Nel pomeriggio Nel pomeriggio in particolare Zeman ha fatto disputare Una partita A campo ridotto Da una parte La formazione Dei titolari Con Zampano Stendardo Code Biraghi In difesa Memushai Bruno E Verre A centrocampo E tridente offensivo Benali Cerri Caprari Sul fronte opposto Vittorini Bovo Fornasiere Crescenzi In difesa Montari Brugman Milicevic In mezzo Pepe Castanos E Mitriza In avanti Con la giunta Di Kubas Da una parte E Muric Dall'altra Anche oggi All'appoggio Diversi tifosi Hanno assistito Alla seduta A dare ulteriore Colore Alla giornata Di allenamenti Anche la visita A sorpresa Delle Iene Che hanno intervistato Zeman Il cui ritorno Su una panchina Di Serie A Continua ad avere Una vasta eco Amplificata Dalle 5 a 0 Del debutto Tornando ai prossimi Impegni C'è grande curiosità Per la gara di domenica Al Bente Godi Di Verona Contro il Chievo Per capire Se il Pescara Del nuovo corso Del Boemo Ha la forza E l'entusiasmo Per lanciare Una comunque Difficilissima Rincorsa salvezza O meno Con il Chievo Il Pescara Ha bisogno Di fare risultato E ci proverà Avendo nelle gambe Una settimana intera Con Zeman Che ha lavorato Sulla parte atletica Ma anche per inculcare I suoi primi concetti Di gioco Sul fronte Veneto Il Chievo Non ha problemi Di classifica Essendo in una posizione Centrale Di assoluta tranquillità Ma due giornate fa Ha battuto a domicilio Il Sassuolo E dopo il K.O. Interno con Napoli Non vorrà chiudere In bianco Il doppio turno Casalingo Mancherà Pellissier Mentre Cesar È in dubbio Per un attacco Influenzale Anche se nelle ultime Due gare Il tecnico Maran Gli ha preferito I vari Spolli Dainelli E Gamberini In attacco Dovrebbe toccare All'ex inglese Sostenuto da Castro E Birsa Ma dopo il gol A Napoli Anche Meggionini Rivendica una maglia Da titolare Tra Chievo e Pescara Un solo precedente In Serie A Inter a Scaligera Risale al 31 ottobre 2012 Con vittoria Clivenze Per 2 a 0 Reti nell'ultimo quarto d'ora Di Lussiano Surigore E Stoian Ancora Pescara Calcio Un blitz in Uruguay Di Bancoschi E Druda Il vicepresidente E il dirigente Sono a Montevideo A caccia di nuovi talenti E dopo Torreira Oltre Ora alla Sampdoria Il difensore centrale Nicolás Rodriguez Sbarcato Poco tempo fa Pescara Sono in arrivo Altri giovani In rampa di lancio E poi la Lega Il teramo Alla riscossa Ugolotti Punta il bis Non fermiamoci Dopo il successo Sul Pordenone Domani A Padova Biancorossi A caccia Del secondo colpo Consecutivo E allora Con lo sport Noi concludiamo La nostra rassegna stampa Prima di salutarci Ricordiamo che L'appuntamento Con l'informazione Del TG6 Arriva nella prima edizione Alle 14 Invece La rassegna stampa Di mattino 6 Torna lunedì mattina Puntuale alle 7 Buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti